ciao ragazzi e benvenuti al parchiatto del tagliagole oggi ragazzi unboxing di un victor inox un po particolare che magari non tutti conoscete almeno in questa versione però prima ragazzi volevo ringraziare alex ragazzi alex da cernobbio che mi ha fatto un regalo gigantesco mi ha mandato questo paio di anfibi ragazzi e tre paia di calze ragazzi non so mai cosa dire quando mi arrivano questi regali grazie mille alex quello che ho chiesto alex è stato come ha fatto a beccare il numero ragazzi numero beccato perfetto 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 quindi grazie mille alex del pensiero non dovevi li apprezzo veramente tantissimo grazie ancora andiamo insieme a vedere il victor inox eccoci qui ragazzi pronti all'unboxing di questo victor inox un po particolare in tanti mi state scrivendo di aumentare il numero dei victor inox nelle recensioni anche senza fare la prova mi dite va benissimo che ci fai vedere i modelli e ci dici cosa ne pensi ragazzi sapete come la vedo io secondo me è un coltello se non lo provate non potete sapere come va quindi cosa ho pensato ragazzi per questi unboxing facciamo dei modelli un pochino particolari un pochino presentazioni ragazzi questi semplicissimi unboxing oggi infatti parliamo di questo coltellino victor inox dlt trading esclusive cosa vuol dire ragazzi che semplicemente la dlt trading oltre oceano è l'esclusiva per vendere questo tipo di victor inox il victor inox è un tinker ragazzi un tinker e voi mi direte ma dai cosa ci fai vedere il tinker lo conosciamo tutti sicuramente ragazzi sicuramente ma magari qualcuno di voi non conosce il tinker wartog ragazzi ovviamente non aspettatevi dentro un victor inox con la forma di un facocero ragazzi semplicemente adesso quando andremo ad aprire capirete il motivo del wartog scatoletta classica victor inox ragazzi eccolo lì swiss army tinker wartog qui abbiamo victorino swiss army ovviamente realizzato in svizzera ragazzi scatoletta semplice semplice passiamo al contenuto ragazzi che è quello che ci interessa eccolo qua ragazzi eccolo qua e allora adesso capiamo spostiamo che già fatica andare a fuoco eccolo qua victor inox tinker wartog ragazzi wartog perché praticamente alla livrea della 10 wartog che è praticamente un cacciacarri un aereo cacciacarri non so se l'avete presente ragazzi quello con i due motoroni dietro il mitragliatore sotto il muso a canne rotanti ragazzi non sono un esperto quindi la mia descrizione sicuramente non sarà delle più brillanti però praticamente riprende la livrea di questo aereo da caccia ragazzi americano ovviamente con la sua bella facciona da guerra ragazzi eccolo lì è veramente bello ragazzi veramente bello ripeto serie esclusiva per di altia non lo trovate se non lì ragazzi davvero tanta tanta roba me l'ha procurato tempo fa l'amico fabio ragazzi bel pezzo un bel pezzo andiamo subito a vedere questo qua è il tinker nella versione normale ragazzi quella da 9.1 c'è anche il tinker small che è più piccolo andiamo subito a vedere quello che ci interessa da vicino ragazzi la lama principale e il tagliente vediamo aspettate che metto via la plastichina perché c'è il vento e mi vuola poi la devo andare a recuperare chissà dove vediamo la lama principale come va beh ragazzi ottimo ottimo lama principale di 7 cm 7 cm però la misurano anche da questo punto proprio dall'inizio della manicatura ragazzi quindi la lama il tagliente utile misurato con righellino di mio figlio sono 6 cm esatti affilati bene ragazzi affilati bene sono contento affilati veramente bene allora se devo trovare le pulci 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 ragazzi io una passatina sullo stroppi della darei così è originale ma taglia come avete visto veramente bene lama principale che ha uno spessore di 1.5 mm quindi è molto sottile potete andare tranquillamente a fare dei tagliettini di precisione ragazzi ovviamente è un piccolo chiudibile non è che potete andare a farci chissà cosa comunque ragazzi taglia molto bene sono contento questo tinker anche la lama eccolo qua la lama secondaria piccolina ragazzi andiamo a vedere come taglia ragazzi ottimo 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 questo victorino finalmente mi soddisfa al tagliente ragazzi molto buono molto buono una passatina sullo stroppi solo perché sono un maledetto fissato ma comunque funziona molto molto bene lama piccolina che è da 3.6 cm ragazzi coltellino con le sue due lame quindi quella grande ragazzi da 7 cm con tagliente utile 6 cm e quella piccolina da 3.6 cm l'acciaio usato è il classico della victorinos che è paragonabile a un 440b più un 440a tratto distintivo del tinker ragazzi il cacciavite il cacciavite a stella eccolo qua al posto del cavatappi ragazzi se non siete degli ubriaconi secondo me un cacciavite a stella torna molto più utile ragazzi su un coltellino svizzero rispetto che a un tirabushun in dialetto si dice così ragazzi ve l'ho già detto a un cavatappi ovviamente dovete deciderlo voi per mio gusto personale preferisco ragazzi il cacciavite a stella che può tornarmi sicuramente più utile abbiamo anche l'alesatore adesso ve lo prendo eccolo qua al esattore col forellino per andare a riparare i vostri anfibi il vostro cuoio a cucirvi delle belle borsette ragazzi lo potete usare anche come punteruolo tutti gli strumenti sono slip joint ragazzi a tutti i tool sono slip joint non hanno nessun tipo di blocco lama sul tinker dall'altra parte abbiamo eccolo qua il cavatappi che scusatemi il la priscatole che funziona veramente bene l'abbiamo già visto e il cacciavite piccolino piatto sull'altro lato abbiamo il dove eccolo qua abbiamo il cacciavite grosso ragazzi e lo stappa birrette per andare a stappare le birrette visto che siete degli ubriaconi ovviamente immancabili ragazzi immancabili dove le ammessi eccolo qua lo stuzzicadente per levarvi pezzi di costina ragazzi prima di limonare con l'amorosa anche se l'amorosa i pezzi di costina le garbano parecchio e dall'altra parte ragazzi guardate che figata perché tirate fuori un pezzettino se avete presente l'aereo che vi dicevo prima e cacciacarri tirando fuori così sembra proprio il mitraglione del cacciacarri con le canne rotanti invece sono le pinzette per andare a levarvi qualche spina qualche scheggia che vi rimane ragazzi nella manina ragazzi un bel prodottino leggero simpatico con questa livrea davvero figo perché comunque è difficile da reperire un bel coltellino ragazzi facciamo i saluti tirando fuori la lama principale eccolo qua un bel coltellino ragazzi che veramente mi ha fatto sudare tantissimo per queste per questi cinque minuti di recensione l'ho rifatta settecento volte ragazzi non ci potete credere però se non uso un coltello non so che cosa dirai coltello sono contento di avervi fatto vedere questo modellino dlt exclusive ragazzi un modellino che se vi piacciono i victorinos dovete avere assolutamente andiamo alle conclusioni finali victorino stinker wartog ragazzi quello con le guancette con stampata la livrea della 10 wartoghi il cacciacarri ragazzi andate a vederlo che non so come descriverlo se non come ho fatto coltellino simpatico ragazzi ripeto esclusiva dlt trading quindi lo potete trovare solo oltre oceano con una lama ragazzi con tagliente utile di 6 cm che va tranquillamente a coprire tutte le esigenze del vostro edisi urbano il coltellino come particolarità del tinker ragazzi anche il cacciavite a stella secondo me più utile ragazzi del cavatappi su un coltellino che potete usare in emergenza però ovviamente sono gusti se la vostra emergenza ragazzi è stapparvi la bottiglia di vino ovviamente meglio il cavatappi ragazzi dal victorino stinker wartog da alex dal bellissimo regalo che mi ha fatto dal parchetto del taglia gol è tutto buona giornata e ciao